E adesso sono le 5.53 minuti, ci colleghiamo con Rai Pubblica Utilità per gli ultimi aggiornamenti sul traffico. Troviamo Alessandra Canale, buongiorno Alessandra. Buongiorno Emanuela, buongiorno e buona domenica ai nostri telespettatori. Una domenica mattina all'insegna del traffico scorrevoli sulla rete viaria, condizione ideale per spostarsi in vista delle gite fuori porta, anche grazie al divieto di circolazione dei mezzi pesanti che osserva l'orario dalle ore 7 alle ore 22 come ogni domenica. E come confermo le immagini che monitoriamo, che si riferiscono all'area toscana, esattamente all'altezza di Firenze, al chilometro 285, quindi è un buon momento, si viaggia agevolmente. E anche un buon momento per mettersi in viaggio, come evidenzia la telecamera, sul tratto della tangenziale di Napoli all'altezza di Corso Malta. Ad ogni modo, Emanuela, ci sono delle criticità legate ad alcuni incidenti, uno dei quali si è verificato sulla 1 alla Roma-Napoli, che sta generando code per un chilometro tra il bivio della 16, Napoli-Canosa, lo svincolo Casoria, in direzione Napoli. Segnalazione di due incidenti, non molto distanti l'uno dall'altro, sulla 2 l'autostrada del Mediterraneo. Uno è verificato, sì, tra... No, questa invece, la grafica si riferisce all'incidente sull'A14, Ancona-Pescara, tra San Benedetto del Tronto e Grotta Mare, in direzione Ancona, con il coinvolgimento di un'autovettura. Dicevo, sulla 2 l'autostrada del Mediterraneo, due incidenti. Uno è verificato, sì, allo svincolo di Cosenza Nord, e l'altro allo svincolo Morano-Castrovilleri, sempre in direzione Reggio Calabria. Ci spostiamo sulla strada statale 390 di Bari-Sardo, in Sardegna, perché c'è un tratto chiuso motivato da uno smottamento tra Lanusei e Bari-Sardo, in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda le previsioni del tempo comunicatici dall'Auronautica Militare, indica ancora maltempo su Sicilia e Calabria Ionica, con piogge abbondanti e temporali, tempo stabile altrove. Ma attenzione, perché la viabilità è compromessa dalla nebbia su alcuni tratti autostradali, con visibilità ridotta, e quindi in questo caso, vi ricordo, il limite scende a 50 km orari, qualora il quadro visivo sia inferiore proprio ai 100 metri. E c'è presenza di nebbia su molti tratti autostradali, sulla 21 Torino-Brescia, tra Sant'Enai-Piacenza, ma anche sulla 7, tra Ronco-Scrivia e Busalla, e tra Gropello e Serravalli-Scrivia. Anche sulla 14 abbiamo un tratto interessato dalla nebbia, tra Acqua Viva delle Fonti e Gioia del Colle. Mi fermo qui, buona domenica ai nostri telespettatori e buon lavoro a te, Emanuela. Grazie, buon lavoro anche a te, Alessandra, a tutti i colleghi di Rai Pubblica Utilità.